Partita, segua una serie, due, venti, tre, metti, effetto ufficioso che è a fare uno con un replay, parte di una lavorazione all'esterno del sommo di traccia del Giacone, Assindustria all'interno con Carianca, Anna Carianca, Assindustria, Assindustria in seconda e terza posizione, cerca di riservire anche la tecnica estensa in cursio a uno ora è passata al comando la formazione di Assindustria con Giuliani che fa partire Martina Leggiani, la salvatrice, attenzione perché a Carianca estense ha liberato i cavalli si può dire e si è portata all'insegnamento della formazione paduana la salvatrice, attenzione perché a Carianca estense con Elevara Roma e Assindustria che ora sta producendo la seconda e terza posizione di Saffetta Assindustria quindi con Martina Leggiani che cene a Morice non ha piacere non è passata all'insegnamento della salvatrice una dalle premagare la presidità della Assindustria e risentare il tempo della realtà della salvatrice, due informazioni paduane ai comando, con le atletiche stesse a riseguire si presenta al comando la formazione la prima formazione di Sindustria con Emma Trevenello alle spalle di questi vediamo Atletica Stensi in seconda posizione 2.27 e 72 poi Sindustria